se mi permetti di condividere io ho anche un piccolo point in realtà non potrò usarlo tutto perché in effetti c'è anche troppo poi avete visto l'end out serve qualche riferimento allora grazie un'altra volta per chi mi ha invitato e appunto la cosa che un po' mi ha spinto a offrirmi per questo ciclo di seminari è proprio il fatto che parlando di filosofia anche nel senso più ampio io ho l'impressione che per quanto riguarda la nostra tradizione legata all'università ci siano molti luoghi comuni e che sia anche necessario fare un po' una purificazione semantica di termini ecco siamo molto scolastici nel senso storico e allora scusate ma dovrò anche far vedere per fare un po' di propaganda queste sono pubblicazioni anche molto recenti questo è un volume a mio giudizio a cura di Vincenzo Milanesi che chiunque si occupi di filosofia sia come filosofo come curioso e a Padova in particolare dovrebbe avere dove tra l'altro ci sono proprio dei capitoli specifici su figure che a volte sono anche di grande importanza ma spesso rischiano di essere note solo ai specialisti ecco l'altro è uno una cosa molto più indietro nel tempo che però mantiene la sua validità proprio come sintesi qui è presente anche il professor Gregorio Piaia che pure come ho collaborato io allora e allora non mancano appunto le sintesi bibliografiche per orientarsi ecco il problema è quello che quando si parla di filosofia specialmente dal 200 in avanti si danno per scontate troppe cose ad esempio che fin dalle origini dello studio famoso 1222 ci fosse un qualcosa che noi possiamo definire di filosofia è un problema non da poco sono gli anni tra l'altro della grande esploit delle scuole la prima grande espressione delle scuole di artes a Parigi e poi anche con la ripresa nella seconda metà del 200 non è chiaro non è chiaro se non che il mito fondativo dell'università ha messo che si possa compendiare nella patavina libertas universa universis che in realtà va storicizzato altrimenti semplicemente uno dei vari elementi di una specie di marketing culturale ora non è che manchi anche qui una ricca produzione molto seria perché si parte dalla definizione di Padova come quartiere latino di Venezia data niente meno che da Ernesto e che nel bene e nel male ha associato questo stigma di averroismo alla filosofia padovana perlomeno fino al 1700 ecco allora a rivedere in maniera seria questo luogo comune ovviamente non sono io e c'è una ricca produzione bibliografica ci sono nomi di persone che ci sono anche magari più lontane nel tempo come Bruno Nardi ha scritto cose fondamentali oppure Antonio Poppi è ancora vivo e che ha dato una serie di contributi fondamentali tra l'altro anche con delle simplici secondo me più affrontabili come nel volume del centenario di Copernico a Padova una panoramica appunto della filosofia attorno all'anno 1500 però appunto la questione fondamentale è quella quando si è iniziato a insegnare qualcosa che possiamo fare filosofia non è una cosa da poco allora esisteva ci sono dei presupposti per far capire che prima del 1222 a Padova c'era un contesto culturale è molto discusso un altro studioso purtroppo rapito immaturamente agli studi cioè Paolo Marangon aveva trovato una traccia nella presenza di un codice della logica Vetus cioè del corpo della logica istotelica che l'alto medioevo non aveva dimenticato tra i libri dell'abbazia di Santa Giustina però un'autorità come Lorenzio Minio Pello fece notare che probabilmente poteva essere un codice arrivato più tardi nella biblioteca una ricca biblioteca però quattrocentesca dell'abbazia questo non prova nulla allora il merito di Paolo Marangon fu quello di mettere insieme la ricerca sui testi cioè sui codici biblioteca con la ricerca d'archivio visto che si era laureato prima in filosofia e poi in lettere con una storia di una tesi di storia medievale e proprio con un libro importante alle origini dell'aristotelismo ecco è chiaro che ad esempio forse con maggiore rilievo detto alle scuole chiamiamole laiche c'erano delle scuole non ecclesiastiche in senso generale la cattedrale era un luogo di cultura un canone della cattedrale fu il famoso Salione Buzzecarini che andò per curiosità astrologiche a Toledo per tradurre o far tradurre delle opere appunto dall'arabo in latino ma nulla ci dice che ci fosse qualcosa superiore all'istruzione nella grammatica nelle arti liberali proprio negli elementi delle arti liberali molto più importante e questo lo dico proprio perché poi non preoccuparmene è la presenza delle scuole dei nuovi ordini religiosi dove un'attività scolastica ci fu cominciando dai domenicani ma in un certo senso ancora fuori dello studio anche questa è una cosa da precisare siamo tutti un po' di fronte all'immagine del modello di Parigi in cui la filosofia cioè di artes che però sono governati dalla filosofia naturale sono in qualche modo propedeutici soprattutto agli studi di teologia è la strada che farà un padovano cioè Marsiglio da Padova va a Parigi avendo una cultura nelle artes invece di fare il medico o di studiare diritto va a Parigi e risulta risulta diciamo tra i collegiali del collegio del Sorbonne perché studiava teologia come era normale e era uno degli attrattivi di Parigi per cui questa immagine del modello parigino in realtà c'entra poco con la teologia delle scuole dei frati che c'erano e come ho citato i Domenicani i Domenicani sono presenti dal 1226 con la propria sede vuol dire quattro anni dopo l'inizio del studio e sappiamo che i Domenicani seguivano come i Dominicanes e appunto i questi questi i studenti i nuovi intellettuali che si spavano ma anche altrettanto importante furono le scuole dei frati minori legate alla figura in qualche modo fondativa di Antonio da Lisbona più noto come Antonio di Padua tutt'altro che è sprovvisto di una formazione culturale e anche un ordine che è arrivato più tardi o meglio che si è rassodato più tardi ha incominciato molto presto negli anni 70-80 del 1200 ad avere una propria scuola interna e voglio dire sono i famosi agostiniani e remiti agostiniani che nel 1881 ebbero presente niente meno che Egidio Romano ancora baccelliere che a Padua tenne degli importanti discursi e gestioni che sono nelle sue opere ecco ma detto questo è solo per dire che ci sono anche altri luoghi al di fuori delle scuole che noi possiamo dire universitari fino a quando non nascerà una facoltà teologica guarda caso di modello parigino cioè 1363 ci sono le scuole sia quelle di filosofia propedeutiche sia quelle di teologia all'interno dei grandi conventi mendicanti aggiungono poi non so i carmelitani che sono abbastanza marginali o i servi di Maria ma nello stesso tempo c'è una circun secondo livello che manda i migliori ogni tanto capita a Parigi il grande modello era quello dei dominicani che avevano le scuole dalla grafica dal latino fino appunto alla teologia interne ecco ma può capitare che queste scuole potessero essere aperte a degli esterni non in maniera generalizzata è una delle questioni che discutono molto gli studiosi di Dante biografi di Dante quando qui parla della partecipazione appunto alle nelle scuole degli religiosi alle disputazioni dei filosofanti ecco e tutti spesso hanno prescontato che si è andato dai dominicani di Santa Maria Novella o da Francescani a Santa Croce a studiare cosa ecco tutti elementi molto così vaghi a Padova potremmo dire questo c'è una testimonianza è la seconda secondo testo della N-Tau di notevole spessore che però finalmente mette assieme quelle che noi possiamo dire le scuole dei religiosi e le scuole dei filosofanti cioè Engelbert un benedettino della Stiria che poi fece una grande carriera Genna Abate in Vermont a Mena Abazia tuttora la Bassa Austria con una bella biblioteca e racconta di sé in una trattarello ha scritto moltissimo è un autore minore ma è molto studiato perché ci sono tante opere verso il 1310-20 racconta della sua formazione filosofica e dice appunto che da prima era stato andato a Praga alla scuola della cattedrale e poi per ragioni politiche perché il re Otto Kar di Bohemia era nemico del nuovo dell'eletto re dei romani lui con gli altri studenti austriaci fu costretto a tornare ad Armo e da lì si trasferì a Padova dove continuò lo studio in logica e in filosofia a piccola medievale o lo preferite alla greca perché qua alla medievale sì sì ecco cinque anni nello spazio dei cinque anni sotto maestro Guglielmo da Brescia un personaggio che era ancora piuttosto giovane che poi farà il medico andando però a studiare a Bologna e diventerà niente meno uno dei medici un archiatra di Bonifacio VIII canonico di Parigi senza essere Parigi anche se ogni tanto ci va e così via bene questa testimonianza e anche Alberto Darnot ci dice due cose importanti che anche dopo appunto una formazione in logica e filosofia si può andare a studiare nelle scuole sotto i maestri lettori dei dominicani a studiare teologia però Engelberto era un monaco settino probabilmente poteva essere anche ospitato da altri religiosi e comunque dimostra che c'era un'attrattività anche di quelle scuole ma siamo ancora nell'epoca in cui teologia non è nello studio per cui questa è una caratteristica di tutte le università italiane anzi università con la U maiuscola perché soffro poco entriamo anche nella semantica bene questa è un'ottissima varianza più tarda che comunque con qualche problema cronologico è stata si riferisce ad avvenimenti degli anni tra il 1276 e il 1286 per cui non siamo alle origini dello studio di Padua passiamo in quella grande ripresa che inizia sostanzialmente verso il 1260 non dico nulla sul grande problema di cosa è successo nel ventennio ci fu un ventennio anche allora andrò per Padova cioè sotto il gelino terzo da Romano perché una volta c'erano delle soluzioni tattiche o continuazione perfetta o interruzione totale e in realtà non è proprio così nessuna delle due posizioni è ancora diciamo affettata oggi ma è proprio per l'ambito delle arti e della medicina guardiamo bene questa è la non è sostanziale che c'è anche nella medicina antica c'è in Galeno c'è nella medicina bizantina e ancora di più in quella araba il medico è anche filosofo poi farò leggerò un un aforisma di un medico del quattrocento perché proprio un'altra testimonianza è il testo uno del hand out è molto celebre per chi si occupa di storia diciamo dell'Italia comuna non solo di Padova alla fine di una grande cronaca quella di Rolandino detto Rolandino grammatico anche maestro di retorica che fu letta pubblicamente esposta di fronte al pubblico fondato formato dalla docenti e maestri indicati sotto e questa lodevole associazione dei baccellieri e degli studenti delle arti liberali dello studio di Padova questa testimonianza molto nota eppure misconosciuta perché anche recentemente credo tre anni fa si discuteva di un bel libro sulla filosofia in Italia all'epoca di Dante dove Padova è stata marginalizzata addirittura di Pietro D'Avano si dice che appunto il suo esempio non è così attivo che è vero da un certo punto di vista ma non è vero per quanto riguarda l'ambiente di Padova ecco nel 1262 il 13 di aprile fu letta pubblicamente secondo una modalità tipicamente universitaria ecco e la rubrica finale della cronaca ci dà l'organigramma di una specie di piccola facoltà tra virgolette di arti e di medicina già attiva con alcuni nomi non così importanti però diciamo ricostruibili come personaggi storici allora questi tre maestri di cosiddetta questi cosiddetti dottori in fisica e scienza naturali ricordiamo che fisica spesso indica la medicina ma anche la scienza naturalis che rimanda appunto a tutti gli strumenti anche intellettuali e alle pratiche didattiche della scuola appunto di filosofia e un maestro di logica tredicino e poi un gruppo di maestri che sono detti di grammatica ma anche di retorica allora potremmo dire che sicuramente verso il 1260 c'è un nucleo di docenti che sono attivi in quello che si chiama lo studium ecco questo è il primo termine noi possiamo anche parlare di università o di ateneo in senso molto tra l'altro perché in realtà lo studium è più una realtà che esiste esiste ma è da singole componenti che sono riconoscibili ecco non tutte le componenti possono esserci l'altro grande termine appunto è quello di universitas cos'è l'universitas non è affatto l'università ma è una modalità aggregativa un modello scuole che non è solo proprio delle scuole perché anche i comuni i liberi comuni sono delle università dove sono gli uomini che si associano certo per il fine di essere appunto pellegrini per l'amore del sapere per cui a questa altezza qualcosa che sta che può diventare una universitas degli studenti un po' in parallelo con le altre due università che sono formate dagli studenti di diritto cioè la componente che è culturalmente ma anche socialmente più potente è molto autoreferenziale nel senso che il diritto in particolare il diritto civile si considera una vera sapienza sapienza civile ha bisogno di una base anche logica ma non ha bisogno di tutta la filosofia allora potremmo dire sicuramente allo stato in corso c'è una qualcosa che si può chiamare anche l'associazione degli studenti e dall'altra parte c'è un corpo docente bene e proprio questi due termini ci fanno gli fanno dire qualcosa sull'altro modello organizzativo di tipo associativo del collegium dove in tutto sono raccolti i docenti che si chiamano doctores però non dobbiamo pensare che sia ancora sia già formalizzato l'iter per arrivare a qualcosa che noi oggi chiameremo la laurea ecco teniamo presente una cosa e lo dico sempre nel corso di storia dell'università con i metri di valutazione attuali qualunque ateneo dell'epoca dove nei casi documentabili meno del 10% si laureava non passerebbe assolutamente le forche caudine nel modo più assoluto perché una cosa è potersi laureare arrivare ai gradi accademici e una cosa è andare alle universitarie e questo vale tranquillamente per lo meno anche per i secoli dell'età moderna bene allora queste due testimonianze in realtà ci dicono quanto però incominciasse ad avere una forma una presenza ecco per quanto riguarda diciamo questa pubblica lettura si tratta come dicevo di una modalità che era già nota Oxford alla fine del dodicesimo secolo e quella della pubblicazione proprio attraverso attraverso la forma tipica dell'elezione messa Gerardo Camonesse pubblica la sua opera sulla topografia ibernica di fronte ai maestri di Oxford mi pare verso il 1189 ma non vorrei dire una stupidaggine e comunque era attiva anche a Padova come era stata attiva la pubblicazione di un'opera piuttosto di retorica il buon compagno da signa ma la retorica che sarebbe un'arte liberale a quel livello è piuttosto una specializzazione non è non fa parte del 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 trivio è come dire un'opera di una specializzazione che spesso segue i giuristi perché i giuristi hanno sempre avuto bisogno di qualcuno che insegnasse a fare bei discorsi o a scrivere belle lettere ecco ma quando parliamo dell'ambito appunto filosofico dobbiamo pensare subito anche a quello medico ora uno dei punti discursi non è solo quando si è incominciato a insegnare filosofia ma anche quando si è incominciato a insegnare la medicina c'è un nome che di una certa importanza Bruno da Longobucco che fu un chirurgo nato in Calabria di formazione molto probabilmente salernitana e poi attivo anche a Bologna che nel 1252-53 è arrivato a Padova dove compone la sua chirurgia che è un manuale molto importante anche basato sulle autorità dove c'è una struttura anche l'oltre peccato che si tratti di un trattato di chirurgia e fino all'inizio del diciannovesimo secolo una cosa essere chirurghi una cosa essere fisidottori che hanno fatto gli studi ecco e poi c'è anche la tendenza a retrodattare la presenza di questo importante chirurgo che si vede a un collega e data da un piccolo ospedale ospizio e non nelle aule universitarie una presenza appunto a retrodattare la fine origine dello studio che è indimostrato e indimostrabile appunto ecco ci sono altre amenità recentemente venute fuori sulle origini appunto dell'Ateneo che però sono appunto gratis seritor gratis negator ecco cosa significa però la presenza di una cultura medica vuol dire che ci sono dei fermenti che sono paralleli a quello che ad esempio sta succedendo a Bologna dove sarà proprio nel 60 70 si passa da una scuola diciamo intellettualmente anche importante però più di tipo della chirurgia quella di Teodorico Borgoni a Tadeo Alderotti che invece adotta i tipici le tipiche modalità intellettuali della scuola c'è un corso di testi c'è la lezione ci sono le questiones che possono essere in aula o anche esterne e poi ci sono le disputazioni quando non si applicano questi metodi tipicamente scolastici non inizia nemmeno la medicina scolastica e di conseguenza appunto anche l'ambito filosofico va riportato a mio giudizio proprio all'interno di questo sviluppo che diciamo mette veramente un po' in secondo piano la filosofia però poi fa capire l'importanza di questo connubio e anche delle differenze a cui si dedicherà Pietro D'Avano Pietro D'Avano non è che venga fuori improvvisamente ha anche alle spalle una serie di contatti internazionali e di circolazioni che sono estremamente importanti perché anche questa è un'altra cosa da pensare non esiste così una filosofia che si autoriproduce a Padova ci sono tutti i contatti che arrivano a Padova e poi lo vedremo anche verso la fine di questo mio intervento c'è sempre stata l'attenzione verso docenti di fama che venissero dall'esterno all'epoca di in cui fu attivo Pietro D'Avano esisteva il legio dei medici che aveva anche il proprio capo o preposto lo sappiamo da un esempio di diploma di laurea del 1027 è il testo 3 io vi ho riportato solo i nomi dei presenti ecco dove c'è il preposito noi diremmo il priore il presidente del collegio degli artisti si chiama collegium artistarum sottinteso et medicorum ed è la corporazione professionale dei docenti non dei medici i medici cittadini hanno un'altra corporazione e lì non è necessario essere universitari bisogna essere però riconosciuti della professionalità e chiaramente molti che sono universitari saranno anche nell'altra corporazione Pietro D'Abbano Mondino da Cividale del Friuli che è stato un po' un continuatore importante proprio nella storia del risinamento medico di cui ovviamente io non mi occupo ma anche due docenti di logica e poi alcuni docenti di grammatica non dovete pensare alla scuola preparatoria di latino ma una grammatica elevata perché i gradi preparatori sono affidati a maestri che appunto sono nelle sole piuttosto diffuse nelle nostre città bene nel giro di pochi anni si capisce che c'è un'altra trasformazione che era già avvenuta per quanto riguarda la potremmo dire la l'ambito giuridico cioè si inizia a pagare alcune delle cattedre con denaro pubblico denaro del comune di Padova che ha puntato moltissimo sulla presenza dello studio e questa diciamo questa dimensione del salario pubblico non copre tutti gli insegnamenti copre i più importanti ma sarà abbastanza importante notare come nel 1321 in un'occasione di un secondo grande movimento migratorio da Bologna che ha colpito la crisi nei patti stretti tra il comune di Padova e gli studenti fuoriusciti da Bologna si parla espressamente di che il comune si lega a pagare anche due maestri in medicina cosiddetti ordinari ricordate sempre che è ordinario la materia non è ordinario il professore il professore era ordinario in relazione alla materia ecco uno straordinario uno in chirurgia che certamente è importante ecco e uno in filosofia che epoca e per secoli vorrei dire la filosofia naturale è per antonomasia e uno in loicalibus cioè nell'insegnamento della logica che fate bene è importante proprio come strumento mentale e si equiparano questi maestri e i loro scolari ai privilegi dell'ambito giuridico anche questo è un elemento che si è andato sviluppando sviluppando nel tempo è già esistente pure a Bologna c'è sempre un po' questo rimbalzo di modelli perché se questi venivano da Bologna hanno chiesto per prima cosa di continuare a essere organizzati esattamente come erano bene ecco e sono gli anni appunto di figure importanti come eh si rodavano e sono anche gli anni in cui continua un rapporto tra PA e le scuole di Parigi e del resto era fu importante anche per Bologna addirittura a Bologna inizia qualcosa che era stato chiamato l'averroismo bolognese come se appunto anche l'idea eh della filosofia eh parigina del lugar di Sigeli di Brabante fosse proprio trasfuso alla fine del duecento a Bologna in realtà quali erano gli gli interessi erano gli interessi ad esempio la filosofia naturale che veniva dalle scuole parigini parigine come eh quelle di Jean de e poi di Burino ecco però sono anni in cui sostanzialmente la filosofia è nelle mani dei medici a Padova cioè dopo Pietro Davano in realtà c'è qualche figura minore maestro Simone da Padova che peraltro stava anche a Bologna pare fosse un dottore parigino cioè testimonianza di un allievo parano che fa una reportazio di un corso eh di Buridano ci sono dei rapporti che però non sono nuovi lo stesso Pietro Davano era stato a Parigi e sarà con la nuova situazione come si dice succede a comune il nuovo regime che è quello della signoria la signoria di Ida Carrara in realtà è una tipica signoria italiana fortemente comunale non è che comune finisce certo c'è un po' una una divisione del lavoro per cui a volte sarà la stessa signoria a assunti direttamente quella che noi potremmo dire oggi una politica culturale sempre a vantaggio della città ma anche vantaggio della proiezione della propria immagine è una grande anche forma propagandistica quella di essere i patroni in qualche modo delle arti delle lettere pensate a Petrarta e nello stesso tempo di avere una cura per lo studium per l'Ateneo ecco proprio questo sarà importante proprio nei rapporti interni come vedremo poco come sarà importante anche l'intervento l'intervento congiunto nell'ambito della signoria perché finalmente anche Padova avesse la facoltà teologica appunto la concessione ufficiale l'istituzione è del 1363 due anni dopo un'analoga concessione per Bologna e semplicemente l'importanza che è annessa in un quadro di politica generale proprio anche la presenza di un collegio di teologi che può finalmente laureare in teologia e invece di andare a Parigi o a Oxford o a Cambridge non solo perché era costoso ma perché è complicato perché poi ci sarà il grande scisma all'Occidente e ci si può laureare in Italia allora dall'Ungheria o dalla Polonia o Germania vengono piuttosto i frati dei vari ordini a laurearsi vengono a Padova vanno a Bologna o a Firenze e così via ecco perché perché quando si parla poi di filosofia dobbiamo sempre tenere presenti anche le scuole appunto di teologia ecco però non è questo elemento che forse mi fa perdere un po' di tempo ultimamente diciamo negli ultimi decenni è stato ripreso abbastanza bene e che ancora meriterebbe di essere approfondito è che nella seconda metrale del Trecento e ci sono grandi medici che sono anche di filosofi faccio due soli nomi che tra l'altro appartengono a vere e proprie dinastie familiari Marsilio Santa Sofia esponente o da Santa Sofia dal nome non Santa Sofia di Costantinopoli ma proprio della Contrada Padovana che è il maggiore esponente assieme a fratelli nipoti figli di questa famiglia e che certamente fu uno dei massimi medici e docenti in vari atenei ma ha lasciato anche molte questiones che hanno una direzza filosofica l'altro nome è quello di Giovanni Dondi dall'orologio pur esponente di una famiglia di medici che è uno dei pochi medici e filosofi amici in grado di sopportare il Petrarca che per lui ha delle buone parole e dice peccato sarebbe arrivato agli altri se non fosse stato medico ecco ma è una figura molto complessa che tra l'altro insegnò anche logica di lui è arrivato il diploma di abilitazione in logica era già dottore di medicina però a un certo momento ha voluto proprio a metà del secolo essere anche rilaurearsi in logica esplicamente e la insegnò ma siamo ancora nell'ambito di queste figure che sono contemporaneamente filosofi e medici ecco e lo vediamo perché finalmente nel 300 incomincia ad essere più disponibile una documentazione documentazione d'archivio che ci parla degli insegnamenti ma soprattutto dei gradi accademici sono i famosi promotori ecco e anche qui facciamo un po' di chiarezza la laurea tra l'altro non è un solo atto ma è formalizzato in almeno tre fasi in particolare a Padova ci si laurea in medicina o anche in arti o anche in arti e poi in medicina o anche contemporaneamente sostenendo non solo la cosiddetta privata cioè l'esame rigoroso e poi eventualmente il dottorato pubblico che poi tendono sempre di più a essere fatti uno dietro l'altro c'è anche prima l'examen tentativum che fa parte della diciamo della fase ricognitiva della qualità del candidato e che comunque è una specie di fase previa e questo rimane abbastanza stabile nel tempo ecco quello che volevo dire è che nella seconda età del 300 un po' alla volta si affacciano anche degli veri e propri specialisti filosofi che sono filosofi in quanto hanno il grado accademico di di arti liberali che spesso sono arrivati a Padova dopo aver fatto una certa trafila didattica altrove il primo nome che balza agli occhi è quello di Biagio Pelacani da Parma che per eccellenza uno dei filosofi naturali giardo 300 inizio 400 un personaggio molto studiato molto studiato forse adesso un po' meno fino a una decina di anni fa anche grazie alla ricerca e l'edizione di testi che vi dico sono di una inamenità totale però gli specialisti e con Biagio Pelacani noi notiamo una cosa importante viene assunto è uno dei degli migliori tempi numero 6 appunto con un contratto di condotta che vuol dire una specie di patto di prestazione professionale di altissimo livello è diverso non è diciamo così un contratto d'opera che però ha una forma privatistica guardate che non c'è assolutamente l'idea del pubblico impiego fino all'inizio del 1800 c'è l'idea di un servizio pubblico lo vedremo anche nel 400 c'è qualche docente che sa di essere pagato dall'autorità governativa allora Venezia e sa che la sua funzione in qualche modo è legata ma non c'è assolutamente l'idea del pubblico impiego bene nel 1384 Biagio Pelacani viene condotto dal vicario del signore da Carrara con una simbatti perché per un quadriennio insegni a Padova e lui ci rimarrà questo primo quadriennio quando era ancora relativamente giovane perché poteva avere massimo 35 anni è molto importante e Biagio Pelacani poi sarà chiamato all'inizio del 1400 nel 1407 e rimarrà altri 4 anni però in qualche modo non lascerà una grande impronta dopo adesso che cosa ci dice l'arrivo di uno come Biagio Pelacani si rompono tutte le problematiche tipiche di questa nuova filosofia della natura che è stata un po' inquadrata dalla Federico Vini sotto l'idea della crisi dell'aristotelismo certo ma si trattava di tutte le speculazioni fatte da chi prima di tutto appunto dei fisici e poi c'è la fortuna dei logici inglesi cioè i mertoniani e tutto quello che ci va intorno oppure di altri filosofi come Arsiglio di Ingen che certamente si forma lì e dopo va a Heidelberg e dunque tutte le problematiche tipiche della filosofia tardorale che ai miei tempi quando si studiava al liceo era tutto solo boccamismo nominalismo che invece è molto più ricca e molto più articolata bene allora appunto c'è questa necessità che noi facciamo attenzione ai contesti i contesti sono anche quelli dell'arrivo di persone che insegnano ma come vedremo non sono solo i docenti sono anche i libri che si spostano infatti la parte la dedicherò un po' per sommi capi a parlare un po' anche di altri aspetti altri testimonianzi di un clima intellettuale sono benissimo vengono fuori benissimo in maniera proprio plastica dagli inventari delle biblioteche dei professori allora l'altra grande svolta è proprio alla fine del secolo cioè nel 1399 riportato in lungo e largo il documento tradotto tranne la parte sostanziale cosa succede nel 1399 finalmente gli studenti di arti e medicina ottengono la totale indipendenza dalla corporazione degli studenti in pitto è una svolta fondamentale non che prima non ci fossero così dei tentativi di essere indipendenti l'avevano fatto nel 1360 ma avevano ottenuto un'autonomia molto particolare e in ogni caso diciamo ad esempio pagavano ancora una tassa di iscrizione e di laurea al rettore al capo dell'universitas degli studenti giuristi allora cosa succede a Bologna erano sostanzialmente certo all'inizio del 1300 sicuramente nel 1316 gli studenti di arte e medicina hanno la loro universitas a Padova devono aspettare fino al 1399 non è che nel frattempo non si insegni nella filosofia che a volte appunto il fatto che non ci sia una universitas autonoma di studenti pertiene all'organizzazione dei dei vicenti all'aspetto sociale ecco l'insegnamento viene erogato come si dice oggi brutta parola da doctores che hanno la loro associazione ecco e questo è il modello italiano che viene riprodotto in questa divisione e che in qualche modo sancito da un lodo arbitrale non da un intervento a gambe attese ma da un intervento richiesto espressamente dalle parti in contesa cioè di fatto cosa c'era stata una elezione di un rettore il primo rettore dell'universitas fu Benedetto Greco D'Averno come dire che veniva da lontano in un'epoca in cui moltissimi molti studenti di arte e medicina vengono dal regno di Napoli c'è un richiamo non vanno a Napoli a studiare vengono a Padova o vanno a Bologna ma il primo rettore è questo studente sfortunato perché fa il rettore un anno tra il 1399 e il 1400 e nel 1401 in giugno muore probabilmente durante un'epidemia e per nostra fortuna è rimasto il testamento di questo studente che apparteneva così a una cuscia sociale di un certo rilievo e anche l'inventario dei libri della sua biblioteca personale per cui non ci sono solo gli inventari di biblioteche di professori c'è anche questo caso della biblioteca di uno studente uno studente avanzato uno studente che tra l'altro appunto soggiornava in un collegio fondato da un medico il collegio di Jacopo d'Arqua o di Santa Caterina questo fatto dà origine non semplicemente a una serie di nuovi rettori che sono quelli degli studenti di arti e medicina ma in qualche modo anche a una autonomia ed è l'autonomia gruppo anche studentesco che si trova poi almeno diciamo sulla carta fino alla fine dell'antico regime fino al 1700 quando però un po' alla volta quello che è stato detto il potere studentesco essenzialmente quello di designare o di proporre il corpo docente ormai era estremamente ridotto o era stato drasticamente proprio eliminato bene perché perché qui c'è l'altro aspetto importante del rapporto tra i pubblici poteri e l'andamento dello studio allora è chiaro che al tempo comunale Padova ha avuto questa fortuna di puntare sulla presenza dello studio ma i carroresi hanno ereditato questa cura e poi dopo la crisi del due anni tre anni 1404 1407 la nuova potenza di riferimento cioè Venezia ha capito l'importanza di puntare sullo studio di Padova avrebbe potuto lasciare libertà a Verona o a a Vicenza a Treviso che avevano delle tradizioni culturali e universitarie di riorganizzare i propri studi invece no punta tutto su Padova bene e questo lo vediamo appunto nel testo nove dove come abbiamo anticipato siccome Viaggio Pelacani che aveva avuto una condotta con duecento e quindici ducati che per un filosofo erano tantissimi mai come i giuristi ovviamente e propter modus quos tenet noi potremmo dire per l'atteggiamento per il modo di fare che tiene era in viso agli studenti qui cade un famoso aneddoto che Vettorino Ramaldoni da Feltre che fu studente ma non si laurea mai e fu anche docente avrebbe chieste lezioni di matematica private a Viaggio Pelacani ma Viaggio Pelacani era esosissimo e così Vettorino da Feltre ha dovuto studiare da solo matematica appunto matematica è perché uno degli interessi dei nuovi fisici è l'applicazione di alcuni schemi come sapete meglio di me geometrici o matematici tutto il problema della intenzione intenzione e trimissione faro diciamo tutti elementi che poi sono variamente discursi anche in storiografia in relazione al metodo sperimentale che cosa succede che appunto questo è un esempio uno dei parecchi che potevo portare di un intervento pubblico cioè è Venezia che ormai fa la politica in particolare è il senato di Venezia che è un organismo molto pletorico nel quattrocento a seguire appunto questa triangolazione di richieste da Padova di risposte e in questo caso appunto dice beh fate fuori nel migliore dei modi congedate il buon viaggio per la canna comunque è insopportabile e lui tornerà in patria cioè a Parma dove sarà per pochi anni e poi muore sarà anche docente e il suo stipendio lo usiamo per aumentare a un docente padovano che però insegna una materia che attira cioè il diritto canonico e aggiungiamo così diamo un po' a un concorrente dell'altro grande nome dell'epoca siccome lì c'è Paolo da Venezia che insegna senza concorrenza la sua materia che era sicuramente la filosofia naturale in quegli anni date dei soldi con 60 ducati a questo Antonio D'Urbino che rimane un nome ma che in realtà è documentato come studente anche come laureato ecco dunque un docente che fa è il secondo il secondo nel senso che è il concorrente è una modalità quella della concorrenza che era considerata estremamente importante proprio per dare una specie di stimolo di emulazione tra docenti le carte delle più importanti per secoli questo ci vede a Padova ma anche altre hanno sempre il primo luogo il secondo luogo magari il primo luogo è un docente famosissimo e molto pagato il secondo luogo è lo stesso famoso però meno pagato oppure sono in parità a volte può succedere che c'è anche il terzo luogo i terzi luoghi a Padova come a Bologna hanno delle piccole cattedre un po' da preparazione all'attività pagate pochissimo e soprattutto fatte per poter dire io è il terzo luogo non sono particolarmente importanti un po' lo diventano ma più avanti bene allora è proprio questo fatto che ci sono le esigenze e le richieste che vengono dagli studenti in questo caso gli studenti di arti e di medicina e le risposte ecco ma c'è anche tutto un insieme di interventi che vengono dai dottori ecco noi spesso dimentichiamo che a regolare ad esempio il ricordo degli studi la durata o le modalità degli esami degli esami e anche delle altre attività didattiche concorrevano sia alle norme che si davano gli studenti in quanto associati in una corporazione in una universitas sia i dottori che erano raggruppati in collegio allora non è un caso che appunto siano stati gli studenti forse prendendogli tutti i bolognesi che noi non abbiamo ma certamente negli anni 60 gli studenti ragionano molto e decidono qualcosa per quanto riguarda la nomina o meglio la proposta dei docenti però è molto più interessante quello che circa 30 anni prima 1433 fa la corporazione dei dottori cioè stabilisce ad esempio che ci sono degli anni in cui uno deve avere un certo numero di anni non necessariamente tutti a Padova oppure che c'è da dare una garanzia da porre una somma una cauzione prima di fare l'esame tentativo e poi l'esame privato ecco questa altezza sono ancora perfettamente contemplate quelle attività con le disputazioni e anche l'insegnamento da parte dello studente avanzato ora studenti avanzati che insegnano possono venire in mente i bacellieri non è che i bacellieri fossero ignoti come termine in Italia lo usa anche Dante ma che fosse una istituzione in qualche modo intermedia o un grado accademico in Italia proprio non si può dire il nome è noto ma è una realtà di fatto ma la figura del bacelliere c'è solo nelle facoltà teologiche in Italia ancora nel 200 anche a Bologna parla persino di bacellieri di diritto ma sono quelli che sono gli studenti avanzati perché una cosa molto saggia lo studente prima di diventare novello maestro deve dimostrare di saper insegnare come maestri allora non è sarà strano che a metà del 400 sono previsti ancora questi corsi di almeno una delle lezioni tenute su un libro importante della materia dagli studenti stessi allora voi capite che noi abbiamo una specie di strabismo conosciamo molti nomi di docenti e pensiamo che la didattica fosse solo di questi nomi ma c'era tutta una didattica collanale che era prevista e che poi lascia pochissime tracce tutte le disputazioni che devono essere almeno tre appunto questi corsi questi corsi minori qualcosa che noi potremmo pensare un'attività didattica di dottorandi ma è importante anche pensare proprio questo che un po' alla volta queste pratiche didattiche che erano tipicamente nell'ambito della filosofia vengono meno perché perché sempre di più arriva qualcuno che chiede al collegio dei dottori quelli fanno la laurea il giudizio di laurea lo fanno i dottori i dottori del collegio non sono solo docenti anzi nel 400 spesso per anni e anni i grandi docenti Nicoletto Vernia dovranno attendere l'intervento ufficiale di Venezia per essere accettati dai colleghi perché la corporazione dei dottori è una corporazione che nel 400 è fatta essenzialmente da laureati padorani e veneziani non necessariamente da docenti anzi la maggior parte sono titolati sono dottori spesso sono anche medici ma non sono docenti allora anche questo è un elemento che fa capire un po' la diversità questo modello italiano la presenza del collegio dei collegi dottorali che non sono facoltà è un altro termine da depurare noi diciamo per analogia parliamo di facoltà di filosofia o di facoltà perché in Italia lo ha messo in evidenza Fonso Maieru un mucchio di di studi per molti secoli ha significato semplicemente l'ambito disciplinare sono come i nostri SD non vuol dire la facoltà fatta da un corpo docente e dagli studenti iscritti mentre in Francia si è reificata molto presto molto presto allora noi troviamo abbiamo la fortuna a Padova che non è di nessun'altra università europea e nel mondo di avere una serie ininterrotta tranne gli accidenti appunto delle fonti di atti accademici di gradi accademici che va fino del 1300 al 1605 editi editi cioè ancora in forma di libro forse sono anche abbastanza complicati ma in grado di darci un mucchio di informazioni prima di tutto chi arriva alla laurea chi arriva alla laurea non tutti quelli che si sono iscritti per quelli ci sarebbero ci sarebbe necessità di fonti come i e le matricole che in realtà c'erano sono testimoniate ma non sono conservate ecco le matricole sono tipiche delle nuove università europee non so Enna Heidelberg lì possono dire quanti studenti si sono iscritti studenti che spesso erano già maestri in Italia questo non si può fino alla fine del 500 allora proprio la cosa importante è questa che noi abbiamo dei riferimenti ormai anche di tipo normativo però sappiamo che fare la storia con semplicemente le leggi o con la gazzetta ufficiale è proprio un po' è deformante allora per nostra fortuna appunto noi possiamo dire molto sugli studenti che arrivano e che vengono e soprattutto possiamo capire come un po' la voce si sia estremamente rimpicciolito lo spazio di manovra che era tipico appunto della vecchia tradizione dell'autonomia universitaria cioè degli studenti che siccome inizialmente pagavano i docenti con la collecita così potevano chiamare docenti di loro gradimento con l'intervento dei poteri pubblici non avranno altro che un'idea diciamo una capacità da proporre ma un po' alla volta anche questa verrà tolta in sostanza che cosa succede? è proprio la seconda parte del quattrocento nella seconda parte del quattrocento ci sono docenti personaggi importanti basta citare appunto Nicoletto Vernia oppure Imperetto Mantovano cioè Pietro Ponzazzi che avevano ottenuto dal governo veneziano il privilegio di non soggiacere di non essere soggetti sottoposti alla ballottazione che era ormai una cosa molto proforma perché perché Venezia a un certo momento oltre a esentare cioè a escludere dalla ballottazione alcuni docenti che proprio privilegiati ha diminuito la capacità di intervento degli studenti e poi alla fine nel 1560 l'ha proprio definitivamente tolta e così tutta la politica di acquisizione o diciamo di chiamata dei docenti veniva fatta per altre vie certo anche tenendo conto della fama dei personaggi su cui si prendevano spesso così le informazioni per via diplomatica l'ambasciatore veneziano o meglio l'oratore veneziano alla corte di Roma dal papa poteva avere notizia su alcuni l'altro che era a Firenze e così via e questo lo vediamo un po' i cosiddetti rotuli ecco la sfortuna di Padova se ha la fortuna di avere i gradi accademici è che fino a 500 inoltrato ci sono pochissimi di rotuli cosa sono i rotuli sono quelli che oggi noi chiameremmo i ruoli del personale docente o anche delle specie di manifesti studi una volta fino a non molto tempo fa erano cartacei adesso sono solo online però ci dicono chi insegna che cosa nel caso c'è anche lo stipendio ecco e alcuni di questi esempi io ve li ho riportati non mi fermo anche perché il tempo ecco e vedete anche in qualche modo l'importanza di poter avere queste liste perché ci fanno capire dall'entità della dello stipendio del professore qual era il presunto rilievo sociale perché al medico meglio pagato che è Antonio Cermisone si dà uno segno di 550 ducati che è meno del giurista più importante ma è di più dei giuristi di secondo livello oppure le insegnamenti di filosofia naturale 40 60 ducati sono diciamo abbastanza limitati non c'è una base comune cioè può esserci un docente che prende 20 volte più di un altro ecco non lo diciamo però adesso ai nostri ministri perché e che cosa si nota che c'è comunque un numero di insegnamenti quello diremo di catele che è piuttosto limitato questa è una cristica tipicamente padovana l'organigramma dei professori ufficiali è molto inferiore a quello che troviamo non solo a Bologna ma anche a Pavia che è l'altro grande terzo polo a partire dalla fine del 1300 anche nell'insegnamento universitario della filosofia e della medicina ecco quando noi arriviamo al 1500 l'anno torno 1500 l'esempio 4 di questa appendice ecco abbiamo dei nomi importanti sempre separando un po' l'importanza del settore medico da quello che noi diremo un raggruppamento che è fatto da teologia filosofia astronomia e logica allora era successo e sarà sempre più importante nella seconda parte del 400 che con denaro pubblico vengono pagati anche prima uno e poi due docenti di teologia e poi diventano ci sono anche due docenti di metafisica che insegnano la metafisica cioè prende un testo aristotelico o alcuni libri e lo spiegano ma sia nella teologia sia nella metafisica questo sistema della concorrenza diventa l'adesione a due scuole la via Tome cioè l'esimismo dei domenicani e la via scotti che invece lo scottismo dei fratti francescani e qui troviamo nomi molto noti che non hanno un'importanza solo diciamo nominale perché Antonio Trombetta insomma è una figura tutt'altro che trascurare ed è docente di metafisica allora questo elemento di avere gli insegnamenti di teologia e di metafisica nel ruolo delle arti ha fatto molto pensare anche così tipo Paolo Oscar Christeller che erano convinti che la teologia non ci fosse affatto nello statuto delle università italiane o che fosse una cosa appunto delle facoltà teologiche ora qui è abbastanza complicato nel senso che i teologi erogavano dei corsi che servivano sia per la teologia ma che probabilmente interessavano anche studenti di filosofia o anche di medicina sicuramente la metafisica era un insegnamento che era strettamente diciamo gettonabile dagli studenti di filosofia appunto poi troviamo la filosofia morale la matematica e la matematica e l'astrologia questa unione importante noi diremmo la parte dell'oribio delle scienze reales e ancora alla fine del 1500 Galileo Galilei sarà professore delle matematiche le matematiche comprenano anche l'astronomia compresa anche quella che l'astrologia nel senso buono ecco e poi abbiamo i nomi più importanti cioè l'insegnamento della filosofia naturale e in concorrenza Pietro Pomponazzi Peretto Mantovano che poi nel 1508 va via da Padova e riprende a insegnare a Bologna è vero che Bologna la considera una gloria propria però Padova può altrettanto vantarsi del fatto che i suoi corsi erano molto seguiti e dei corsi di Pomponazzi sono rimaste anche le reportazioni fatte dai suoi studenti sia quelle studiate decenni fa da il professor Poppi sia questa che è stata edita tre anni fa da uno studente che poi farà una carriera che è un veneziano e i veneziani che pure avevano a Venezia la scuola di Rialto poi quando volevano seguire la filosofia venivano a Padova appunto e poi troviamo ancora l'insegnamento della cosiddetta sofisteria cioè la logica modale per dire che da metà del 300 al 500 inoltrato le calculazioni cioè la scuola dei logici mertoniani tutto quello che si è sviluppato attorno è stata gettonatissima e lo vediamo che dal fatto che ci sono molte edizioni proprio a partire dagli anni 70 400 curate da docenti in modo da fornire proprio i testi a staffa bene e questa è l'epoca nel secondo 400 in cui ci sono nomi che appunto a volte una nota in un manuale di storia della filosofia italiana oppure sono oggetto di studi estremamente specialistici e cito i nomi Paolo Veneto Paolo da Venezia sarà oggetto di una di un seminario è però un personaggio un petit metre Gaetano Datiene o Ditiene che ha insegnato quasi 30 anni filosofia naturale e che ha scritto poche opere tutte controllate che hanno avuto subito una grande fortuna a stampa e sono state stampate fino agli anni 20 del 1500 non era proprio l'ultimo e quando prendiamo in mano la sua opera ad esempio su Del cielo e del mondo che cosa troviamo? Che fa tutto l'apparato di commento addirittura con il proemio ai studenti ma non legge direttamente il testo aristotelico ma legge il testo aristotelico con il commento tradotto in latino di Averroè da cui la famosa etichetta di Averroismo Padovano ora credo che c'è anche qualcuno più competente dirlo veramente un Averroista è difficile è un po' un eclettico però poi è chiaro che si usano gli strumenti che sono normali se allora c'era il commento di Averroè si 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 spiega quello ogni tanto però poi vengono fuori le opinioni non so di Tommaso D'Aquino o di Egidio Romano e comunque è ancora un'epoca in cui non c'è un interesse di tipo filologico questo verrà fuori un po' alla volta cioè l'interesse filologico vuol dire leggere Aristotele in greco può farlo un umanista e un po' alla volta anche i filosofi specialmente poi nel Cinquecento un interesse per la correttezza del tutto ce l'avranno ma per ora diciamo non fa parte della Formamentis certamente non di Gaetano bene allora come vedete io in realtà ho coperto solo il Quattrocento e il Cinquecento non è che voglia lasciarlo da parte allora vediamo se riesco a condividere una cosa un po' meno scusate eccola qua no va bene va bene no no lasciamo stare lasciamo stare allora no piuttosto volevo appunto dirvi che è molto importante per capire il clima intellettuale studiare i rapporti tra questi reti di relazioni attorno a docenti se uno fa il promotore a una laurea di qualcuno evidentemente è connesso è stato un un professore può essere anche che un uno dei presentatori non fosse un docente poteva essere però un personaggio importante nell'ambiente padovano l'altro elemento è quello di vedere la circolazione dei libri quella fatto che noi potremmo possiamo vedere rispecchiato da le raccolte librarie o meglio sia da codici ancora esistenti ci sono biblioteche filosofiche alla Marciana di Venezia ci sono moltissimi codici che erano stati raccolti da Giovanni Marcanova Padovano che insegna a Bologna e poi lasciati al e di Giovanni di Verdara e poi passati alla Marciana ecco biblioteche filosofiche sono state molto studiate e per quanto riguarda soprattutto i codici ancora rimasti e spesso sono codici di opere importanti o perlomeno ci dicono cosa era a disposizione ma alcune esempi di biblioteche filosofiche che avevo messo nella nel handout B scegliendone tra quelle più importanti ci fanno vedere chiaramente quello di cui ho detto prima cioè il fatto che nel Tarro 300 sono prepotentemente arrivati gli interessi per la logica inglese se voi vedete i libri di filosofia di Giovanni Dondi dall'orologio che si forma sostanzialmente negli anni 40 30 40 del 300 e muore nel 1389 avete i libri Animalium di Aristotele avete la Metafisica avete il De Animalibus avete Pietro Dabano sia i problemi di il serto Aristotele sia il conciliatore non c'è una biblioteca di filosofo medico padovano dove sia e dopo la grande fortuna sarà quella quattrocentesca quando ci sono le edizioni che sono curate dai filosofi ma Greco da Salerno ha anche Buridano e ha Marsilio Dinghe che era morto da poco ha Alberto di Sassonia ha ovviamente Biagio Pellacani ha la Somma Somma Dulmentonis John Dumbleton che non è che sia un autore molto presente molto studiato De Reik fece anche un'edizione critica e c'era in mano di uno studente meridionale che era a Padova nell'anno 1400 la logica di John Hunter Johannes Benator aveva anche un dantes con commento e in un'altra biblioteca c'è anche una decimitate dei italiani può dire che non leggevano solo il commentatore ma leggevano anche appunto un padre della chiesa e così via allora è questo che ci permette di vedere come sono entrati questi interessi si tratta solo dei libri filosofici io non ho messo i titoli medici che non sono indifferenti o quelli di astronomia però appunto se noi andiamo avanti anche un docente medio come questo Jacomo Zanettini che comunque ha insegnato anche filosofia ha le questioni di Enrico di Erfurt Erfurt sopra la fisica ha opere di Nicolò Nicolà Orem che era una cosa moderna siamo nel 1402 Orem è morto nel 1382 capite ancora una suma d'Ulmentonis e così via ci sono i testi aristotelici ci sono spesso anche testi di autori degli ordini religiosi Tommaso d'Aquino è frequentissimo Egidio Romano non ne parliamo Alberto Magno era molto presente sia per i commenti ai libri logici sia per i commenti ai libri naturali ecco Antonio Cermisone che è stato un barone universitario per 40 anni moro nel 1441 ha una biblioteca molto vasta soprattutto medica però tra i libri filosofici ha le Autoritates Aristoteles che è un manuale un'antologia estremamente diffusa ha delle ricollezioni cioè testi presi a lezione da Pietro Ispano i tratelli di logica ha Alberto Magno il commento su sopra predicabilia ha Ferabric che è un altro logico inglese poi ha il problemata di Aristotele Pietro Davano sopra il problemata Pietro Davano il conciliato le questioni su tutta la vita fisica ha Libre Forum ha Tommaso D'Aquino la sentenza super Libre di Corum ha delle questiones ha un Egidius del Regimine Principu che è un libro noi diremmo un po' di politica o tra una politica morale ha Scoto le sentenze di Scoto anche Pietro D'Acandi era stato professore a Padova oppure Gaetano D'Attiene che è morto nel 1465 aveva una bella biblioteca che lascia un nipote e nel suo testamento cita otto codici Alberto De Animalibus Alberto sopra il libro del Physicorum sopra il De Animalibus Degenerazione le questiones Bridani che è sempre il solito Buridano circa un secolo dopo c'è ancora questa fortuna di Buridano Parento Super Libro de Anima commenta Averrois Super Libro Metafisice e Super Libro de Anima e così via e in più nel suo testamento lascia tre codici che lui ha fatto scrivere con le proprie opere perché siano conservati nella biblioteca dei frati di Sant'Antonio tutt'ora ci sono come una specie di edizione variatur perché siano dati in uso a quelli che vogliono studiare in loro ecco non è altro che un esempio nel fatto che si fidavano appunto del luogo di conservazione e la memoria del Buon Gaetano la tiene una finita un po' perché non era un maestro minore però essendoci le sue opere a stampa manoscritte non è difficile studiarle ecco l'ultimo esempio che vi ho portato è del 1480 quando ormai la grande differenza è la presenza nelle biblioteche delle opere a stampa da circa vent'anni in Italia ma soprattutto da quindici anni per quanto riguarda la produzione di libri di te propriamente filosofici i primi testi sono quelli che sono usati nella scuola allora io non li passo però qui c'è citata nel 1480 le differenze questo è in lingua volgare del conciliatore a stampa impresse a Mantua cosa significa? è l'edizio di Mantua nel 1472 del conciliato di Pietro Davano ecco e questo Cristoforo D'Arae Canati che è una figura allievo è un po' il ponte tra Gaetano Tiene e l'epoca successiva era stato anche a studiare a Pavia per cui ci sono le opere di di Coso come si chiamava di Apollinare Apollinare Offredi che è un contemporaneo assoluto e stampava ancora in quegli anni e così via allora come dire vi fa capire la persistenza ma anche allo stesso tempo le piccole novità il nucleo rimane sempre la filosofia naturale aristotelica e appunto le teste i testi soliti ecco e l'altra cosa che avevo messo alla fine numero 7 è invece il fatto che i manoscritti anche quelli filosofici parlano io ho portato la scheda di un manoscritto che sta nella biblioteca peresiana a Mantova e che è un manoscritto dal punto di vista estetico molto brutto e puntualmente significativo perché è un manoscritto che si è stato fatto nel tempo e è rimasto nell'ambito di una famiglia dove si schiavano le artes evidentemente poi per studiare la medicina questo Bartolomeo De Medallis Medicorum Bresciano nota il momento in cui finisce di trascrivere che cosa trascrive trascrivere opere di logica le conseguenze di Ralph Rode un altro testo diciamo classico della logica modale terministica è vero è tra di un parente però dice ho finito di scrivere queste alcune cose utili che sono un'opera di maestro Gaetano Dottiene la notte il 3 gennaio 1426 allora seconda di notte vuol dire due ore dopo il tramonto non alle due di notte a Paz oppure finisce di trascrivere le obbligazioni che sono un'altra opera di logica ma di Pietro da Candia nel 1426 il 18 di giugno regnante intenso intenso calmate cioè con un caldo soffocante dovete pensare appunto è un caso raro ma è un testimonianza molto bella appunto di come anche i manoscritti a volte possono parlare ecco allora io so che oggi vi ho buttato lì molte cose non è che abbia parlato molto nemmeno tanto bene del contesto però alcuni elementi adesso possono anche essere discussi oppure possiamo trovarci un'altra volta per discutere e vi ringrazio e spero che possa essere servito per diciamo come base per poi ritrovare quando ci saranno gli esperti che ci parlano di singoli problemi di singoli autori e grazie grazie